Nel decimo turno di campionato alla Molisana Arena arriverà la matricola San Giovanni Valdarno per il primo dei due confronti interni consecutivi, nonché la prima di quattro gare nell'arco di 17 giorni che andranno a chiudere il girone di andata, regalando alle prime otto della classifica la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia. L'appuntamento tricolore rientra tra gli obiettivi stagionali, provare a centrare la seconda qualificazione consecutiva in Coppa Italia testimonierebbe la crescita del progetto molisano. La sfida con le Toscane tra l'altro segnerà il ritorno sul parquet ad oltre un mese e mezzo di distanza dall'ultima gara disputata contro Ragusa per l'equadoriana Blanca Chignonez. Sull'altro fronte ci sarà grande curiosità per rivedere nel capoluogo la lunga casertana Emilia Bove. La San Giovanni Valdarno di coach Alberto Matassini però non ha come unico riferimento la giocatrice campana. Nel roster anche l'ex Virtus Bologna Elisabetta Tassinari, che unitamente all'esterna australiana Madeleine Garrick, rappresentano le principali tiratrici dell'assemble toscano, che peraltro può contare anche sulle qualità della playmaker ex-Faenza Lisha Sveinsbacher, sul dinamismo dell'ala australiana tra i perni della propria nazionale Sigrid Cuesar, e sotto canestro della francese Aua Trasier. A dare la palla a due alle 18 per la Molisana Magnolia Basket Campobasso San Giovanni Valdarno, il brindisino Angelo Caforio, con secondo fischietto il tarantino Cristian Mottola, a completare la terna la ravennate Maria Giulia Forni.